Garantire alla città di Salerno e ai residenti un'estate tranquilla ed ancor più un ferragosto in sicurezza. I carabinieri hanno previsto un maggior numero di uomini e mezzi per il pattugliamento e la rete di controllo su tutte le aree del territorio provinciale, ma per avere maggiore successo resta fondamentale il supporto e la fattiva collaborazione dei cittadini, invitati a segnalare tempestivamente la presenza di persone, fatti o mezzi sospetti. Così il comandante provinciale dei carabinieri di Salerno, il colonnello Antonino Neosi, che presto lascerà il suo posto al colonnello Gianluca Trombetti. Troppo la piaga dei reati proprietatori, una piaga che in qualche modo si cerca di arginare e come spesso arrivano ad ondate, perché ci sono dei gruppi che si spostano sul territorio, che vengono da parti disparate, che non necessariamente sono stanziali nella nostra provincia, ma spesso colpiscono e ritornano da dove provengono. In più ondate, nei mesi scorsi abbiamo colpito alcuni di queste organizzazioni, di questi gruppi criminali, che erano detti soprattutto a reati predatori, soprattutto a furti all'interno dell'abitazione, a furti sulle macchine, a furti nei negozi. Insomma, è necessaria sicuramente l'attività preventiva che viene posta in atto. Noi nel periodo estivo abbiamo dei servizi rinforzati, anche con supposti servizi, che poi sono stati anche decisi sia in ambito nazionale che in ambito provinciale. Conta l'attività di prevenzione, conta soprattutto anche l'apporto che ci dà la popolazione, ma un apporto costruttivo che può essere soltanto con le segnalazioni. La sicurezza deve essere necessariamente partecipata, cioè è necessario il contatto costante tra i cittadini e le forze di polizia, l'arma dei carabinieri che presenta capillarmente sul territorio. Noi abbiamo, come ben sapete, 92 stazioni carabinieri, 9 compagnie, un reparto territoriale, il comando provinciale. Quindi è organicamente distribuita su tutta la provincia, che ricordano però essere una delle province più grandi d'Italia, più vaste d'Italia. Fondamentale l'importanza delle telecamere di videosorveglianza, delle pattuglie che girano soprattutto di notte, ma se lei volesse fare un bilancio, quante persone collaborano, quante persone chiamano al 112 per segnalare eventuali anomalie? Io devo dire, siamo partiti, la cosa corretta è sicuramente l'attività preventiva, fatta con le pertuglie. Importantissima è la videosorveglianza, a livello provinciale c'è tutto un progetto voluto dal prefetto ed è importante riuscire a perseguirlo perché la videosorveglianza dà una grandissima mano alle forze di polizia, soprattutto poi sia in fase preventiva, perché comunque si possono segnalare determinate autodetture, determinati soggetti, però una videosorveglianza che sia fatta bene con mezzi tecnologici avanzati, che sia in grado di arrivare alle banche dati, per poter segnalare con un alert anche la targa della macchina rubata, tutto questo è fondamentale. È fondamentale il rapporto con i cittadini, noi abbiamo tanta gente che collabora. Ecco io credo che se deve passare questo messaggio, cioè non bisogna girarsi dall'altra parte quando succede, qualsiasi cosa, una telefonata in più piuttosto che una telefonata in meno, ma anche e soprattutto per una questione di coscienza.